Rinuncia allo stacco il favorito Stankovic, si parte con veloce dall'esterno Sakila che trova l'opposizione di Susanna Opie e Solista Desi mentre si è gettata di galoppo Saetta degli Dei, insiste Solista Desi con Lorenzo Vesana sopra avanza Numero 5, Saetta degli Dei, squalificato Solista per questa ragione si getta di galoppo, 14-8 lo strappo, Susanna ha voluto rimanere davanti seconda posizione c'è Sakila, in terza Spirit Lux, in quarta Stankovic ok che ora muove di fuori dopo aver rinunciato al lancio e andrà a chiedere strada a Susanna Opie, si è rimessa in coda a Solista Desi che però è finito a tabellone 400 in 31 e mezzo con poca velocità, Susanna Opie vuole stare davanti, ha detto no a Solista Desi per adesso lo dice pure a Stankovic ok, Riccardo Pezzatini vuole giocarsi la corsa davanti Stankovic lo accetta e staziona ai suoi fianchi, paletto da curva di sinistra se ne va in 15 e mezzo per 600 in 46-8 si viene davanti alle tribune con Stankovic che scopre Susanna Opie cerca di superarla, la supera, cambia idea Riccardo Pezzatini e ora preferisce correre sotto la metà gara in 1 e mezzo, 14-6 davanti alle tribune, 400 non scritti in 30 spiccioli con i quali Stankovic ok ha preso la testa nei confronti di Susanna Opie Sacchila mezza ruota, Spirit Lux, Solista Desi è squalificato, si è comunque ricongiunto il chilometro di Stankovic ok in semplicità, percorso in 1 e 19 con la curva di destra avvenitura in 17-4, una volta passato Enrico ha fermato, muove dalla terza posizione Sacchila che aggira la stanca Susanna Opie, Sacchila va in caccia di Stankovic ok che ora non può che accelerare dopo un paletto in 15 e mezzo per 3 quarti in 1 e 34 e mezzo Sacchila all'attacco, Stankovic che deve ri-argomentare sulla curva di sinistra Enrico però ha il frustino in spalla anche se Peppe Lombardo insiste nell'attacco 200 al traguardo, la curva di sinistra in 15 spaccato, Stankovic sta controllando Sacchila retta d'arrivo, Stankovic in vantaggio, Sacchila che ci prova ma Enrico ha sempre il frustino girato Stankovic rimane avanti di poco ma in controllo, non tragga d'inganno la sola lunghezza di scarto perché Enrico non ha mai toccato il frustino, non ha mai chiesto nulla a Stankovic che ha chiuso in 29 spaccato la retta d'arrivo in 14-2, il rotolo dice 2-3 e mezzo, 1-16-6 che vale perché gli ultimi 400 sono stati in totale surprise, potete vedere Enrico non fa nulla prestazione molto più importante di quello che non dica il rotolo essenziale, nudo e crudo la vittoria di Stankovic ok, Enrico Bellei, Olga Rehler di colori della Domino Stable, 1-42 al tot grande scioltezza ma soprattutto grande impressione visiva per Stankovic ok, da self-possessed e Flavia Cronos, la linea a Via Riverti ok, grazie a tutti